E' senza dubbio la strada più colorata di Napoli, San Gregorio Armeno. Botteghe di presepi, pastori, sugheri, fiori e prodotti di artigianato rendono caratteristica la via. Qui è Natale tutto l'anno. I maestri pastorai lavorano e dipingono le statuette. Le bancarelle sono ricche di corni, amuleti e altri portafortuna. La tradizione poi si unisce all'attualità, con le creazioni dettate di volta in volta dai nuovi personaggi della cronaca rosa. Alzando gli occhi si può osservare il campanile della chiesa di San Gregorio Armeno. Sembra un ponte tra i palazzi, uno degli scorci più pittoreschi e famosi della città.